Al Domino Point Days parleremo dell'utilizzo di IBM Connections nelle PMI ditte medio piccole, l'esperienza che abbiamo fatto noi come ditta piccola e quali punti sono stati magari un po' più difficili da risolvere che altri. Chi sono? Andrea Sponte, nato e cresciuto a Winterthur vicino a Zurigo, sono entrato nel mondo Lotus come power user durante una migrazione da CC Mail a Lotus Notes e da allora ci sono rimasto dentro, non sono più uscito. Dal 1997 amministratore Domino con la versione 4.6, sono stato attivo diversi anni in una riassicurazione responsabile per tutta l'infrastruttura e dal 2007 sono con un IBM Business Partner di Zurigo, la Bellsoft. Come consulente nel Romo Domino, soluzioni mobili, ho un piccolo team di developer e sono anche attivo come istruttore dove facciamo più un knowledge transfer che una vera e propria educazione. Una piccola prefazione anche su questa sessione non è una presentazione tecnica, cioè non sentirete memory, memoria, disco, questo, quell'altro, ci sono tantissime risorse già in internet dove potete vedere tutte quelle cose lì. Quello dove ci concentreremo noi è le esperienze che abbiamo fatto noi in ditta, come detto, gli aspetti positivi, cosa ha aiutato a migliorare da noi internamente e gli aspetti non così positivi. IBM Connections. Penso conosciate tutti il prodotto. sicuramente è una cosa per le multinazionali fantastica perché avendo la gente dappertutto in tutto il mondo si può collaborare in modo molto semplice. E noi? Piccole imprese? Ma serve davvero se sia come noi adesso siamo 30? Può servire un tool del genere? Non è una cosa un po' troppo grande, complicata, ma serve. Perché abbiamo iniziato con Connections? Chiaramente siamo partner, IBM Business Partner, quindi comunque dobbiamo sapere cosa fanno i software dell'IBM. Abbiamo clienti che sono interessati, magari ci chiedono, ah ho sentito che c'è questo nuovo prodotto, ma cosa fa? Si può usare? L'altra cosa che avevamo è il nostro know-how attuale, dove era? Era dappertutto e quindi anche da nessuna parte, perché era un po' sparso in tantissimi files, nei to-do's, abbiamo tuttora un quicker attivo, avevamo documentazioni sparse nei database, un po' qui, un po' lì, e il solito problema, arriva un nuovo dipendente, scusa ma dov'è l'informazione su quel cliente? Credo lì o forse anche di là, cerca un po', magari trovi qualcosa. L'altro punto che avevamo, la direzione era interessata a tenere il Human Capital. Questo è un estratto di Wikipedia, dove descrive il Human Capital. che praticamente vuol dire cercare di tenere le informazioni che vengono prodotte nella ditta anche quando la persona che ha prodotto questo know-how non c'è più. Questa è una piccola traduzione, non mi è venuta veramente bene dal tedesco sul nostro leitmotiv della ditta, però, riassumendo, la BELSOF cerca di essere un datore di lavoro molto avanzato, cerchiamo di essere molto aperti nel stile di lavoro cooperativo e abbiamo una politica di informazione molto aperta, cioè non è che nascondiamo informazioni dalle risorse umane o dalla direzione, cerchiamo di dare queste informazioni sempre. però essendo consulenti capita ogni tanto di non essere in ufficio. Siamo dai clienti, siamo in giro, abbiamo gente che magari tre, quattro, cinque mesi non si fanno vedere perché sono sempre da qualche parte. E spesso avevamo il problema che se non si partecipava a un certo meeting le informazioni sparivano. i treguardi posti con l'introduzione di una social software erano i seguenti. Volevamo migliorare la comunicazione interna in tutte le fasi, semplificare la cooperazione tra i teams che sembra una cosa un po', ma siamo pochi, sono 30, non è tanta gente, però è difficilissimo. Volevamo anche migliorare lo scambio di conoscenze e preservare e trasferire il know-how. Sono un po' gli argomenti che troviamo dappertutto, diciamo, non è che abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Le obiezioni, anche quelli, direi, sono i classici, ma i dipendenzi non si conoscono. Cioè, piccolo gruppetto sono sempre quelli, dai, non è difficile non sapere cosa fa l'altro. ci si trova per pranzo o per bere un caffè. Comunque tutti sanno cosa fanno gli altri o forse anche no, perché abbiamo visto molto spesso che non si sa il vicino cosa faccia di di lavoro. Quindi, abbiamo iniziato come era prima l'uso, prima dell'uso di social software la comunicazione. comunicazione top down, cioè la direzione aveva qualcosa da dire, bene, comunicazione a voce, si riceve un invito per un meeting, se ci sei, ci sei, se non ci sei, magari dopo arriva un'email, forse. Ok. Oppure erano delle informazioni date di persona a persona, quindi anche lì una cosa molto singolare, il gruppo spesso non riceveva le notizie, oppure come detto, certi consulenti che sono sempre in giro dai clienti non ricevevano le informazioni nel momento giusto. Stessa cosa dice si per la comunicazione bottom up, cioè se avevamo qualche argomento da discutere con la direzione, era praticamente sempre una cosa diretta, non era una discussione aperta, era io ho un problema, vengo a anticiparlo, però non so se magari il mio collega aveva già avuto lo stesso problema, ha avuto la stessa idea e così via. L'altro problema che avevamo era tra i reparti, siamo più o meno diciamo tre gruppetti, la consulenza, la vendita, la direzione e ci sono dei punti dove ci toccavamo, però spesso non si sapeva bene ma quelli che vanno a vendere ma cosa vendono? Ma questo prodotto che abbiamo qui l'hanno mai annunciato ai clienti o cosa è successo? Quindi abbiamo deciso di porci alcuni punti da raggiungere, volevamo uno scambio di informazioni senza gerarchie, ognuno può dire qualcosa, ognuno può commentare e ognuno può accedere alle informazioni della ditta, relevanti per la ditta in ogni momento. Abbiamo anche discusso se lasciare aperti i commenti su tutti i blog eccetera interni o no e abbiamo deciso di farlo e poi vedere cosa succede. L'altra cosa era che volevamo creare questo spazio del sapere con un accesso semplice perché spesso il sapere era via con il contribuente. Se non era in ufficio il mio collega non sapevo ma cos'è che hai fatto quando sei stato da quel cliente. In più volevamo anche cercare di creare una classifica per semplificare le ricerche perché cos'è che si fa? Un problema Google internet grande e poi vabbè ma qual è il rilevante cos'è che funziona davvero se un mio collega che magari developer di Xpages ha trovato una soluzione beh credo più a lui visto che lo conosco che a qualsiasi altro che ha scritto qualcosa in un forum. Non si vede bene non è un problema perché è tutto in tedesco quindi giusto per spiegare un po' come ci siamo ci siamo avvicinati a questo miglioramento. per esempio le risorse umane e la direzione hanno i loro blogs dove vengono inserite tutte le informazioni relative alla ditta specialmente nelle risorse umane spesso avevamo il problema che in ufficio girava il sentito dire ho sentito dire che lui può andare in vacanza tre mesi perché io no oppure ho sentito dire che avete deciso di cambiare di aprire un altro ufficio ho sentito dire che è sempre stato un po' un problema perché poi ci sono discussioni interne dipende chi c'è uno ti dà la risposta così l'altro ti risponde ah no no non è vero era giusto un'idea così quindi abbiamo iniziato a scrivere in questi blogs tutte le cose relevanti dai punti di vista della direzione o dalle risorse umane l'esempio che avevo messo qui dentro era uno dei miei developers che come hobby fa immersioni e aveva deciso di fare il master per poi insegnare per fare questo ha bisogno di un po' più di tempo perché dura più o meno quattro mesi il tutto discutendo con le risorse umane abbiamo deciso va bene tra vacanze e vacanze non pagate puoi fare questo questo sabbatical diciamo di mezz'anno e già lì visto che le discussioni c'erano arrivavano già ho sentito che lui può fare qualcosa cos'è perché dov'è che va via cos'è che deve fare quindi adesso così mettiamo tutto praticamente subito online e così tutti vedono le informazioni tutti possono anche rispondere o commentare e quello che è successo è che i commenti sono sempre positivi cioè gli si fanno gli auguri buona fortuna fortunato che sei tre mesi al sole e tutte quelle cose lì però aiuta anche a socializzare in ditta specialmente anche con la gente che magari non c'è spesso comunque tra l'accesso mobile si leggono lo stesso le notizie un altro esempio che abbiamo messo il classico del caffè panico un po' di mesi fa si è rotta la macchina del caffè senza caffè in una ditta di informatica è un po' dura non funziona proprio bene e anche lì subito si trovavano i gruppetti ah ma adesso cosa facciamo abbiamo bisogno di una nuova macchinetta prendiamo questo sistema qui no prendiamo quell'altro le cialde non cialde chissà che cosa alla fine la direzione ha deciso vabbè io adesso prendo questa macchina qui avete la scelta queste sono le varianti di caffè e lì voi ci dite cosa volete arrivata la macchinetta arrivato il caffè po' di giorni niente e dopo un po' arrivavano i primi commenti sempre nel blog della direzione primo commento ah che bello oggi ero la prima in ufficio la prima cosa che ho pensato adesso vado a farmi un caffè non è piccolezza non è importante per il successo della ditta però è qualcosa che è entrato e da lì poi si è mosso molto perché tutti che dicevano è vero giusto adesso arrivo anch'io oppure chi era fuori diceva ah peccato io non ci sono sono da questo cliente che il caffè non si può bere cose così come detto non c'entra molto con il successo della ditta di per sé però era la comunicazione interna tra gli amici diciamo che ha migliorato anche un po' di comunicazione e in più alla fine quando è stato chiesto della direzione e allora cosa facciamo praticamente c'era già scritto vogliamo questo e era più facile perché spesso se la direzione decide no facciamo questo e prendiamo quel caffè lì che è una stupidaggine però prendiamo quel caffè lì poi la gente magari è lì col pugno in sacco e no ma a me non mi piace invece così è rimasto tutto molto aperto per trovare una comunicazione interna che anche serve nella vendita abbiamo un blog abbiamo creato un blog per dei nostri sales dove praticamente informavano con quali clienti hanno parlato dove ci sono stati rifiutati per esempio le offerte che abbiamo fatto dove l'abbiamo vinte quali sono i nuovi clienti con che sistemi lavorano eccetera per noi tecnici è molto interessante perché così vediamo con chi hanno già parlato perché spesso non si sapeva ma siete andati da quell'assicurazione ma avete chiesto cosa fanno cosa vogliono fare ma sapete che stiamo lavorando a questo prodotto magari potete inserirlo nella discussione questa è una cosa che arriva settimanalmente e per noi è anche interessante vedere con chi parla la gente che ci vende tra virgolette chiaramente anche qui commenti aperti quindi se si vede ah abbiamo un nuovo cliente interessante sapevate che usano anche quest'altro prodotto abbiamo poi anche tentato di semplificare la cooperazione in diversi modi una cosa che avranno tutte le ditte processi interni che ci sono sono semplici si sanno sono lì qui abbiamo abbiamo introdotto un classico diciamo nelle activities che viene usato come template assunzione di personale in teoria è sempre la stessa cosa arriva un nuovo dipendente cosa serve? beh serve l'accesso serve un computer serve il cellulare un po' le cose classiche la cosa che avevamo scoperto noi all'epoca era che avevamo tipo 5 liste diverse la dipendenza di chi prendeva quale lista magari arrivava il nuovo dipendente gli mancava il telefonino o gli mancava l'accesso a quel sistema perché su questa lista non c'era da mettere il tick e anche qui abbiamo preso tutte le informazioni abbiamo fatto questo template adesso praticamente quando arriva un nuovo dipendente si può andare a dire ok lotus notes gliele abbiamo spiegato come funziona e vai si va avanti anche qui sembrano sono delle piccolezze diciamo però ha già aiutato a ridurre un po' di lavori doppi che facevamo spesso perché magari la gente dell'help desk che tirava sui sistemi si dimenticava ah è vero ma questo è il developer quindi gli serve anche il designer e mettevano soltanto il client normale di lotus notes per esempio un'altra cosa che abbiamo cercato di semplificare era l'organizzazione e anche un po' di trasparenza il nostro marketing ha iniziato a creare una lista un wiki con tutti gli eventi dove riceviamo degli inviti eventi tecnici eventi di vendita presentazioni eccetera spesso capitava che vabbè io ho ricevuto un invito per venire a domino point io non lo dico nessuno ci vengo e basta magari però anche qualcun altro avrebbe interesse però non lo sa che c'è questo evento oppure c'è qualcun altro che anche ha ricevuto l'invito viene arrivo qui a milano e mi trovo il mio collega ah non sapevo veniva anche tu ok quindi adesso abbiamo messo dentro tutti gli eventi chi partecipa o chi si è annunciato di partecipare e in più dopo le presentazioni una volta arrivate mettiamo un link sempre lì dentro così anche molto più c'è la overview ogni tanto mi scappano le parole in italiano che si riesce ad accedere molto meglio alle presentazioni di questi eventi anche questo è aperto per chiunque cioè non è che bisogna andare dal marketing e dire infilate tutti questi eventi è aperto ognuno può aggiungere qualcosa chiaramente visto che parliamo di social software c'è anche il socializing sul sistema sono più cose divertenti passatempi diciamo che anche lì non c'entrano molto con la ditta però aiutano a fare il team building cercare di avvicinare un po' la gente tipo il Simon lì aveva scritto un giorno oggi vado con il mio collega da questo cliente e cerchiamo di vendere questo sistema NetApp Filer che se ci funziona è un bel po' di soldini che entrano e allora tutti hanno iniziato e beh dai che ce la facete non tutti che erano in ufficio ma da tutta la parte un po' augurare buona fortuna e poi è svariato questo che non si vede bene qui sotto che qualcuno aveva detto dai 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 gas per vincere diciamo e visto che lui è tifoso di Formula 1 gli piace un corridore ex interessato italiano il Schumacher che a un certo punto la Mercedes gli aveva detto magic pedal no? c'è quel coso segreto nella macchina usala e da lì è scaturito poi una discussione di Formula 1 anche lì non c'entra niente con tutto questo però è una comunicazione divertente che entra lì dentro oppure una cosa che non posso far vedere questo filmino qui che hanno fatto i colleghi quello che non si vede bene è che ci sono due persone più un Filer NetApp in un ascensore cioè entrare è una cosa poi muoversi e riuscire è un'altra e il collega invece di aiutare si è messo lì col telefonino e adesso io faccio il filmino e poi lo metto sul sito così almeno tu tieni qualcosa da ridere fanno parte della cultura diciamo interna per passare due secondi un po' diversi anche lì è una cosa che la direzione potrebbe anche chiudere però avevamo deciso no lasciamo stare lasciamo andare deve essere aperto non deve essere una cosa nascosta poi alla fine va a finire su Facebook che è esterno magari anche peggio se lo teniamo internamente è un'altra cosa bene direi una cosa tipica scambio di conoscenze un collega un problema nel Lotus Notes o col Blackberry o col iPhone e viene e mi chiede sai come si fa questo sì sì te lo faccio vedere e via problema risolto giorno dopo arriva un altro con la stessa domanda ma com'è che si fa sì aspetta te lo faccio vedere quindi anche qui ci siamo messi a creare dei wikis o delle pagine comunque nei blogs con dei piccoli how to's come si fa a ricercare i nomi nel nostro CRM tramite iPhone come si fa a cambiare i setting del Lotus Notes client eccetera eccetera certe informazioni le avevamo già erano i database del Lotus Notes c'era qualcosa c'era qualcosa in una documentazione lì su qualche documento e la gente però non cercava e non si interessava di cercare invece qui abbiamo un posto dove si entra quando si cerca delle informazioni sulla ditta sono qui questo esempio qui con la ricerca del nostro CRM è stato anche lì il mio collega che ha fatto questa piccola pagina per le ricerche su iPhone e Android io non ci avevo mai pensato ho detto eh beh si può fare anche col Blackberry adesso lo faccio così lo posto anch'io e poi vediamo infatti i commenti sono stati subiti lì ah bello pensavo che funzionasse soltanto con quella tecnologia invece funziona anche con questo però non lo sapevo e sono anche cose così che aiutano moltissimo un'altra cosa dove ci siamo trovati molto bene alla fine all'inizio era un po' dura ehm sempre con i processi avevamo deciso ehm l'anno scorso di cambiare la nomenclatura dei di tutta la hardware cioè dei server router eccetera e chiaramente conflitto immenso no io li voglio chiamare così no invece io li voglio chiamare così ma cos'è chi è che decide alla fine a me non piace eccetera eccetera quindi la direzione aveva deciso una persona e aveva detto tu intanto fai una proposta con quello che secondo te attualmente sarebbe lo standard da usare e poi ne facciamo una discussione e vediamo dove si arriva quindi il 24 gennaio è stato pubblicato questo pdf con erano un paio di pagine con la descrizione perché i nomi dovrebbero essere così e avanti è stato inviato a tutti una notifica c'è il file è lì andate e datemi dei commenti siete d'accordo non siete d'accordo volete dei cambiamenti cos'è che non funziona e così via ci sono stati 26 commenti che erano anche molto molto dettagliati certi e si vedeva bene che la gente comunque era interessata voleva aiutare anche a trovare questo standard nuovo come magari forse non vedete bene la fine è stata poi in agosto cioè ci avevamo messo un bel po' di mesi a definire davvero come era questa nuova nomenclatura e la cosa interessante per noi quando poi c'era da fare la decisione era chi ha fatto il download di questo pdf perché quando poi è arrivato il giorno della decisione c'era questo questo team c'era il meeting c'era il nostro la nostra direzione lì ha detto allora adesso decidiamo sui nomi e uno dei membri lì era lì no secondo me non funziona non va bene e questi nomi non funzionano eccetera eccetera e abbiamo visto che però lui documento non l'aveva mai guardato allora ha detto voto negato cioè se non lavori con la stessa base degli altri non possiamo prenderti in considerazione perché non è che vai lì no per me non va bene però non sai neanche di cosa stai parlando quindi sono anche delle piccole cose di controllo che sono state introdotte senza volere un punto molto importante per noi come ditta piccola anche preservare trasferire il know-how spesso gli argomenti sono inchiodati su una persona e se questa persona non c'è o che va via o che comunque è in vacanza o che è chiuso in lavori con dei clienti è molto difficile poi arrivare a queste informazioni la cosa più semplice diciamo i segnalibri questo dipendente un anno e mezzo fa ha deciso di cambiare lavoro è andato da un produttore a lavorare più più in dettaglio e lui era per esempio specializzato nel ramo Microsoft Exchange eccetera lui lì era il guru si sapeva se hai un problema chiedi a lui lui la risposta te la sa dare oppure ti sa dire vai su quel blog vai su quel sito lì trovi le informazioni quando è andato una delle cose che ha fatto è stato organizzare tutti i segnalibri che aveva in modo più puliti ha messi tutti i tags così come devono essere così la ricerca è anche molto più semplice infatti una cosa che vedremo più tardi il dipendente che è arrivato dopo che ha preso su il suo lavoro è arrivato quando il Maurizio Eiffel non c'era più era già via quindi non c'è stata una come si dice il vergabe sì non c'è stata però tutte le informazioni erano comunque lì è stata una cosa per noi anche ha aiutato moltissimo chiaramente al nuovo dipendente l'altro punto che abbiamo è il trasferire del know-how i nostri developer per esempio hanno tutti anche già un blog privato dove scambiano informazioni sia con Yellow Bleeder sia con altri il che va anche bene prima mi hanno detto vabbè blog privati è una cosa però quelli interni non ci servono che ne dite se scrivete queste cose prima internamente e poi le potete anche pubblicare non è una cosa che proibiamo specialmente quando avevamo iniziato con X Pages i nostri developer non so quanti developer sono qui dentro però i nostri arrivano si prendono il caffè si siano davanti al computer è finita lì non è che ci sia tantissima discussione tra di loro ogni tanto sì però maggiormente io ci lavoro ho il mio codice da fare e basta qui hanno iniziato hanno creato una community X Pages e ognuno lavorando ai progetti che avevano se trovavano qualcosa di difficile un problema che ci hanno messo un bel po' a risolvere ha detto ah magari può aiutare anche il progetto che sta facendo il mio collega quindi io lo metto lì dentro e poi vediamo è una cosa che ha migliorato tantissimo il trasferimento del know-how specialmente perché anche lì i developers magari non sono sempre in ufficio e comunque non si può sempre chiedere hai già avuto questo problema hai già fatto la stessa cosa eccetera bene come ci siamo mossi cos'è che abbiamo fatto un po' intitolato best practice perché diciamo un po' chiaramente abbiamo anche guardato cosa hanno fatto le altre ditte quando hanno introdotto un software del genere e cosa abbiamo scoperto noi fase pilota chiaramente la prima cosa che abbiamo fatto era stabilire delle comunità di competenze siamo tecnici quindi era quasi logico prendere una comunità lotus notes domino una comunità same time una comunità x pages eccetera abbiamo disegnato dei leader delle comunità anche concedendo del tempo per riempire con informazioni le comunità perché è un po' come con i siti web se hai il sito però le informazioni sono di tre anni fa non è che aiuti molto in più sono state introdotte già dall'inizio le comunità delle risorse umane e della direzione lì ancora non erano diciamo cose obbligatorie ma era per provare per vedere com'è che funzionasse una cosa una comunicazione in questo modo quando poi nel gennaio del 2011 siamo andati in produzione con il sistema prima cosa abbiamo fatto un corso di formazione introduzione per tutto il personale perché anche lì c'era il solito ah sì ma voi lavorate già con quel coso lì bo io non lo conosco non mi interessa un po' come con tutti i software diciamo in più la direzione e le risorse umane hanno poi definito questi i loro blogs come la comunicazione ufficiale interna cioè informazioni da da questi due reparti diciamo non venivano più mandati tramite email e durante il corso di formazione abbiamo anche spiegato a tutti come si fa a seguire questa comunità così se c'è un cambio si viene notificati tramite email quindi l'email non è che va via però le informazioni stesse non sono nell'email sono soltanto nei blogs c'è anche stato molto lavoro di persuasione individuale perché tanti non vedevano il vantaggio di lavorare con un software del genere noi abbiamo cercato di spiegare non solo se si è attivi ma anche come passivamente si può avere del beneficio lavorando con un software del genere chiaramente la direzione e anche i leaders devono un po' fungere da esempio per far vedere noi lavoriamo così ce la potete fare anche voi non è che in futuro dovremo ancora vedere stiamo pensando di definire dei criteri di qualificazione per vedere se la gente partecipa come detto non devono essere attivi tutti però chiaramente aiuta però è una cosa ancora che stiamo discutendo ci sono per esempio delle soluzioni di altri business partner questo è per esempio della ISW di australiana che praticamente hanno un add-on al connections che aiuta a misurare un po' i contributi che gli utenti fanno diciamo un po' il I like del Facebook la cosa è simile dove la gente che legge i contributi può andare e dire sì a me questo è piaciuto questo è interessante questo è qualcosa che bisogna tenere a mente infatti viene già usato da alcuni per decidere i performance reviews per vedere ok se tu nel tuo lavoro hai devi condividere certe informazioni se hai un blog interno se il rating che ti danno è più basso di quello definito niente soldi ci stiamo pensando non è detto che useremo anche una cosa del genere però è una opzione e la cosa importante che poi abbiamo trovato un po' un po' dappertutto prendete della gente che ci vuole lavorare che vuole aiutare a tirarsi un sistema del genere cioè non ha senso prendere creare un team fare una fase pilota con della gente che non è interessata se non è già della gente che magari ci lavora già in un certo modo in un concetto simile è difficilissimo tirare dentro anche gli altri anche lì noi avevamo il team che ha iniziato era un po' sparso da tutte le parti però già si vedeva questo gruppo non si può integrare all'inizio perché erano sempre lì no 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 non mi interessa è nuovo non mi piace quindi è un po' un po' difficile cercate la gente interessata datele il tempo perché serve anche quello e aiutate a tirar sul sistema così un pericolo chiaramente c'era c'è ancora c'è sempre il lavoro di persuasione individuale era difficile certe volte questo è un classico che se fate la ricerca su twitter o anche su google can't force social cercate troverete milioni già di entrate su questo argomento se qualcuno non vuole essere social non c'è modo di tirarlo dentro cioè o se devo forzare qualcuno a contribuire a scrivere qualcosa non funziona non funzionerà perché comunque poi la qualità anche ci mancherà su tutte queste cose e anche da noi siamo una una ditta tecnologica siamo tutti un po' tocchiamo questi argomenti però anche noi abbiamo due o tre che se gli dici social escono dalla porta cioè è una cosa che non vogliono non vogliono fare non vogliono avere e non c'è modo di convincerli magari c'è però è difficile forzarli a fare una cosa del genere le risorse umane hanno avuto una bella prova che questa questa nuova soluzione funziona durante un colloquio di un nuovo dipendente dopo il periodo di prova questa è la frase che aveva detto all'epoca non avrei mai immaginato che con una condivisione di informazioni all'interno dell'azienda si potesse ridurre la curva di apprendimento in modo così drastico il fatto è stato anche qui come detto il dipendente che era andato via non c'era più non è che poteva andare da lui a chiedergli ma com'è che funziona cos'è che hai fatto con quel cliente però le informazioni erano lì erano nel sistema si trovavano ha potuto informarsi in modo molto più efficiente che andando a cercare su google se magari qualcuno avesse già fatto qualcosa in quel ramo lì infatti è stata anche un'altra cosa che ha detto quando faccio una ricerca interna per delle informazioni tecniche posso avere anche la certezza che la rilevanza è molto più alta perché è una cosa che abbiamo già fatto noi abbiamo già usato e quindi funziona molto meglio conclusioni della ridirezione dopo i 18 mesi anche lì i traguardi definiti all'epoca sono stati raggiunti abbiamo migliorato la comunicazione interna direi anche di un bel po' abbiamo semplificato la cooperazione scambio di conoscenze è sempre ongoing non è che finisce a un certo punto si va sempre avanti e siamo riusciti a preservare e trasferire il know-how in modo molto più efficiente sfide tuttora in corsa è la memorizzazione dei dati nella testa tanti hanno ancora le scatoline io prendo questo documento e lo metto lì e so dov'è tanti ci dicono ancora oggi io non trovo niente perché non so dove l'avete messo non devi saperlo perché si trova è una cosa che c'è una ricerca logica si può trovare però lì è ancora un fattore di testa diciamo e poi soprattutto trovare il tempo durante il giorno lavorativo di scrivere i blogs di scrivere i vikis di adattarli di fare gli updates eccetera certo documentazioni si devono scrivere sempre però una cosa quando si fa per il cliente è un'altra cosa è quando lo facciamo internamente nei nostri sistemi perché una delle decisioni che avevamo presa era nel connections da noi non ci sono informazioni specifiche sui clienti cioè se metto dentro un wiki come installare un server domino ci sta però non ci sta come ho installato il server domino per il cliente X con password eccetera eccetera queste cose non ci stanno nel nostro sistema conclusioni delle risorse umane è stato un po' questo give people the right tools and info cioè non cercate di catturare un orso con una gabbietta per uccellini non cercate di usare del software che sa fare il caffè e da mangiare se invece la cucina ce l'avete già è un po' una cosa così abbiamo anche un po' di sfide chiaramente creare gli incentivi cioè come posso convincere un dipendente che aiutando cioè scrivendo un blog scrivendo un wiki aiuti davvero la ditta te stesso e anche i tuoi colleghi ci sono le barriere linguistiche quello che abbiamo anche visto è che tanti hanno un problema a dover scrivere dei documenti lunghi diciamo delle spiegazioni un po' più dettagliate la netiquette diciamo da noi non l'abbiamo dovuta introdurre per fortuna perché tutti sanno come bisogna essere lì dentro però è anche un pericolo aperto se tutti i commenti sono aperti chiunque può scrivere quello che vuole un po' di pericolo c'è però non c'è stato bisogno finora almeno è un po' di change management quando si può cambiare cosa perché anche lì abbiamo già avuto un po' di problemi ogni tanto un po' di numeri statistiche siamo 30 utenti nella ditta non so se l'ho detto all'inizio siamo 30 utenti questi sono di maggio cioè mese scorso abbiamo quasi 60 comunità comunque e 29 membri attivi attività sono anche in corso chiaramente abbiamo 23 utenti attivi sempre nell'ultimo mese abbiamo 18 bloggers diversi cioè se 30 persone non è male abbiamo tanta gente che vuole anche contribuire l'altra cosa interessante sono i commenti abbiamo quasi 270 commenti in questi blogs e 32 lettori il dato adesso qui stona un po' perché siamo in 30 perché ci sono stati dei cambiamenti però praticamente tutti sono attivi in certi blogs visto che i blogs delle risorse umane e della direzione sono comunque obbligatorie c'è sempre qualcosa da leggere i files anche un'altra cosa molto importante per noi 31 utenti hanno condiviso i files nell'ultimo mese cioè 23 nell'ultimo mese abbiamo quasi 700 files che sono centralmente sono lì una cosa molto più semplice solito non mando un'email con l'attachment a 30 persone metto il file lì la gente lo trova o si può anche mandare un link è una cosa molto più semplice segnalibri diciamo è il classico abbiamo più di 2000 segnalibri 17 utenti che hanno condiviso negli ultimi 30 giorni anche lì è chiaramente una cosa se ho bisogno di cercare su un specifico argomento guardo prima qui dentro una cosa se il mio developer su xpages ha messo dentro un link qui so che è più relevante questo che qualcosa che trovo da qualche altra parte abbiamo 52 forum che sono anche bel po' diciamo con tante discussioni attive e 48 vikis che con quasi 300 pagine anche lì stiamo aumentando perché adesso prendiamo sempre più prodotti e creiamo i vikis per tutti questi prodotti singoli non ci siamo fermati sul tool stesso abbiamo continuato a evolvere diciamo l'accesso con connections e abbiamo incluso un menu specifico nostro dove abbiamo dentro i links sui nostri sistemi interni cioè ci si può connettere con connections e poi da lì si arriva su iNotes si arriva sul nostro same time server si arriva sul quicker eccetera eccetera l'altra cosa che abbiamo anche usato è il blog di ideazione che è anche già incluso nel connections per definire i prossimi lavori da fare questa cosa era nata in un attimo di pausa diciamo dove non c'era molto lavoro e i nostri developer avevano detto abbiamo un po' di tempo abbiamo questi argomenti cosa dite cos'è che dobbiamo fare prima nel nostro sistema interno cambiamo questo o facciamo questa nuova funzione cosa dite anche lì è stato molto interessante vedere come la gente reagiva e aiutava a prendere delle decisioni diciamo fortunatamente dopo il lavoro è aumentato quindi è rimasto un po' lì il blog però l'idea l'idea c'è stata e in più abbiamo integrato same time completamente nel connections il fatto è questo che praticamente su ogni blog c'è sempre un nome si può fare click sul nome si apre il profilo dell'utente con il famoso bollino verde per dire se si è disponibile o no si può fare il chat cosa semplice oppure anche direttamente una collaborazione video sempre se il same time è chiaramente già installato in questo modo quello che abbiamo visto anche qui il nostro server è accessibile dall'esterno e spesso è già capitato che sia da un cliente dove non si può usare il proprio laptop non si ha internet e l'accesso con il telefonino non funziona però spesso un browser te lo danno che puoi accedere almeno a internet o con questo ho anche già potuto risolvere dei problemi perché mi sono annunciato al connections ho aperto sento ho visto ah ci sono i miei colleghi in ufficio o anche da un altro cliente ho chiesto un attimo di tempo piccolo chat problema risolto gli aspetti non perfetti ci sono non sono pochi ci sono offline niente offline mode cioè la cosa fantastica di notes io mi faccio replicazione ho i dati locali me ne vado ho sempre tutto in accesso e col connections non funziona non ancora magari arriverà chi lo sa non credo però wireless in ogni luogo sì è bella pensata ma in verità non esiste non c'è sempre connessi anche quello come l'esempio che ho fatto prima ho già avuto un paio di clienti dove entro dentro è finita la connessione non c'è connessione verso l'esterno l'altra cosa che anche ci è capitato ultimamente c'è stato bisogno di una manutenzione sul server connections e ciao via tutti i dati cioè non sono accessibili e lì è un po' un problema perché col notes diciamo beh si fa una replicazione selettiva si porta un po' via quello che già ha bisogno e si può continuare a lavorare mentre qui se il server è giù e giù i dati sono ad aspettare anche come esempio ultimamente abbiamo installato un fix pack che era uscito di connections funzionato tutto bene andati via il giorno dopo la metà non funzionava i links non andavano i menu non funzionavano e cosa fai? se la gente si concentra poi su questo tool qui diventa anche un po' un challenge trovare l'aspetto buono l'altro aspetto diciamo non perfetto è quello umano molto dipende dalla descrizione dei files e anche dai tags usati è un po' il problema se io devo definire questo microfono qui magari uso tre tags magari lei usa completamente qualcosa di diverso però è la stessa cosa e lì ancora abbiamo un bel po' di gente che ha dei problemi a cercare le informazioni nel modo giusto ci stiamo lavorando però il non trovo niente è ancora qualcosa che sentiamo spesso però se poi si chiede ma quando cerchi qualcosa come lo fai? ah boh non lo so quindi è anche semplice cercare però c'è quella barriera diciamo che è un po' più mentale e quello che anche abbiamo sentito spesso è non voglio cambiare modo di lavoro io lavoro con i miei folders sul file e basta e ce l'ho lì e non voglio vabbè non vuoi le tue informazioni sono lì però le nostre le trovi solo qui vedi un po' te a un certo punto perdi l'accesso alle informazioni se non aiuti anche te a condividere queste informazioni l'altra cosa che sentiamo spesso perché dovrei condividere un po' diciamo una cosa antiquata sapere potere io so come funziona quindi io ho il posto di lavoro assicurato una cosa che non funziona più e avevamo una discussione ieri non è un fattore di età non è che si dice ah sopra i 50 non ci lavorano perché non lo conoscono non vogliono non è così abbiamo anche gente molto giovane che se dici social gli spaventi è una cosa che non vogliono avere e non vogliono fare quindi lì c'è ancora un bel po' da lavorare diciamo però alla fine abbiamo anche trovato queste queste due tre informazioni dicendo l'insieme sa sempre comunque di più del singolo abbiamo scoperto non solo nella community lotus ma anche internamente che più si condivide e più si funziona non è se io so come risolvere un problema me lo tengo per me perché così lo so io se una volta aiutato voi magari poi mi ritorna anche qualcosa indietro alla fine un po' di risorse per IBM Connections per quelli interessati anche tecnicamente chiaramente i links per IBM i wikis connections 101 della Gap Davis e di Paul Mooney e se volete installarvi un server connections andate lì e davvero hanno iniziato a scrivere un wiki incredibile dove spiegano tutti gli elementi che sono nel connections è davvero una cosa fantastica anche loro cioè è gratis è informazione che vi danno così è davvero una cosa grandissima poi il connections blog della Sharon e di Stuart McIntyre anche loro molto conosciuti c'è anche il nostro Klaus Bild che nel suo blog privato scrive molto sui suoi sulle sue esperienze con IBM Connections e per quelli che non hanno ancora visto il nuovo mobile app connections per Android o iPhone abbiamo anche il link sul nostro sito YouTube dove vedete come funziona il nuovo client che è davvero una cosa bellissima hanno fatto un bel lavoro lì ci sono col tempo fantastico grazie per la vostra attenzione se avete delle domande sono qui o se no anche dopo ci troviamo fuori sicuramente prego a livello di tempo dedicato per seguire per implementare questo sistema c'è una persona dedicata sei tu quanto tempo ci devi dedicare chiede molte risorse il sistema diciamo in teoria no da noi c'è una persona dedicata non sono io il Klaus Bild che avevo prima dentro nello slide lui praticamente ha fatto il setup da solo ci ha lavorato un bel po' specialmente all'inizio era tutto molto più complicato con web sphere come installare configurare eccetera eccetera diciamo con la versione 3 adesso molto è stato semplificato e tirare su un sistema diciamo semplice per iniziare e vedere se è il software che può aiutare è molto più facile però ci vuole c'è una persona dedicata non sarebbe male adesso il tempo vi filzitamre perché ho vedo di più di più di più di più ok ok allora l'ultimo che installazione che abbiamo fatto da un cliente è durata due giorni per tirare sui sistemi fare le prime configurazioni chiaramente è una cosa che poi vive cioè se si prende solo il connections come viene magari si cambiano due tre logos qualche icona è una cosa se poi si vuole aggiungere altri sistemi diventa un po' più complicato però per un primo lancio due giorni ok sì l'integrazione quella che per esempio avete mostrato voi che avete fatto voi verso same time sì in generale con il domino richiede un minimo di sviluppo da qualche parte o è basata già su più disponibili no è già è già pronto diciamo quello che abbiamo abbiamo connesso con domino per l'accesso cioè via LDAP facciamo le credentials sono quelle e con il same time la stessa cosa abbiamo avuto una nuova installazione di same time 8.5.2 e abbiamo integrato anche lì c'è un po' di sviluppo da fare c'è di configurazione da fare sul server connection stesso però non era un'adattazione complicata diciamo non era qualcosa da sviluppare di nuovo ok prego un'informazione relativamente all'utilizzo voi l'avete utilizzato connection come un CRM o anche avete un CRM no abbiamo sì e poi ho visto anche che il sales cioè tutte le attività del blog del sales sono attivate come un'informazione quasi di task no di task di attività perché normalmente è svolto con altri sistemi con delle tool list con delle altre attività sì con dei DPM quindi avete sostanzialmente cercato di semplificare questo aspetto complesso nell'introduzione di altri sistemi complessi giusto cercando di nel connection di mettere dentro valore semplice giusto no no è giusto abbiamo un CRM è uno dei dibattiti che abbiamo anche noi a volte perché ti trovi che mettere dentro un mostro di un CRM piuttosto che un sistema forse meglio fare un blog giusto il CRM ce l'abbiamo comunque anche anche lì abbiamo le stesse discussioni ma non hai messo tutti i dati quindi non funziona lì dietro eccetera nel connection abbiamo cercato di semplificare molto sì abbiamo adesso due sistemi da da sincronizzare in un certo modo però diciamo per tutti è più semplice dare un'occhiata qui dentro se poi c'è bisogno di avere dei dettagli si sa beh allora vado al CRM e ho tutti i dettagli che mi servono però come prima overview è una cosa molto più semplice farlo in questo modo sembra un interessante approccio di semplificazione sì usando questo perché comunque mantiene la connettività sociale per tutti giusto uno scambio continuo e poi uno va nel punto dove gli interessa giusto perché anche spesso avevamo il problema i nostri sales vanno vendono qualcosa e il tecnico dietro dice ma come ma giusto mai sentito una cosa del genere vero no e quindi sono un po' le cose così che quello che sta la mia capa no il nostro CRM è basato su domino e la la cosa che abbiamo lì chiaramente è il modo di di portarlo offline quindi quando si è da un cliente si ha tutti i dati lì non ha bisogno di accedere a internet andare sui sistemi eccetera e come avevo detto anche prima cerchiamo di tenere i dati nel connections molto cioè non specifici tenerlo base proprio sulla base perché siamo spesso fuori dai clienti facciamo anche spesso vedere il nostro connections come lo usiamo e non vogliamo avere dei dettagli lì dentro che poi potenzialmente vedono chi non dovrebbe sì per quello non ci sono password zero non ci sono niente no solo cose che come detto come installare un server domino lo posso mettere lì dentro non è un problema però anche lì senza password senza files cose del genere quindi avete dovuto definire una policy di utilizzo sì 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 questo era una delle cose nella sì 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 giusto prego ma tra i vostri clienti ci sono PMI sì ci sono clienti di connections beh non non ancora non ancora l'interesse c'è quindi attualmente sì attualmente sì 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 multinazionali o se no comunque più grandi per le PMI cioè l'interesse è davvero qui tanti hanno ancora un po' di paura più che altro per l'aspetto che abbiamo scoperto anche noi che c'è gente che non vuole non vuole cambiare moto di lavoro e non vuole cambiare come andare avanti allora lì è un po' un po' difficile però vediamo che si sta muovendo un po' in quella direzione però attualmente non non abbiamo ancora no no faccio una domanda anch'io è utilizzato il plugin per connection si si activities anche i status updates tutte quelle roba lì si 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 e funziona anche abbastanza bene quindi si perché abbiamo comunque i due mondi cioè non è che siamo usciti dal nodes client ci lavoriamo comunque sempre lì dentro però un bel add on che hai e ti aiuta a lavorare si si cerchiamo anche di spostare sempre più dentro agli activities però anche lì non funziona ancora perfettamente giusto modo lavorativo diciamo per chi non lo sa con le licenze domino ci sono cos'era profiles e files gratuiti da usare nelle licenze quindi anche già solo qualcosa da provare dateci un'occhiata perché specialmente con i profiles abbiamo visto anche con altre ditte è una cosa che tanti cercano e avere un sistema diciamo abbastanza semplice per usare così come profiles per informazioni o anche quando ci sono diverse ditte che vogliono collaborare è magari qualcosa da tenere d'occhio giusto i due moduli giusto giusto per chi non le sa niente che cosa sono perché io sono totalmente a digiuno ok cosa posso fare con queste vabbè con i files diciamo un chiaro file centrali profiles sono i un attimo che c'erano posso andare anche diciamo così questo per esempio è il mio profile è un profilo sì dove però ci sono perché qui adesso ci ho messo sulla mia informazione ma c'è un pannello con le ultime attività le cose che ho comunicato ci sono le mie informazioni di contatto c'è se voglio metterli dentro c'è la mia esperienza cosa ho fatto cosa mi interessa nel senso umano giusto giusto e quello che abbiamo visto che qui c'è chi lo lascia libero per gli utenti da cambiare però ci sono anche alcuni che dicono no le informazioni ce le mettiamo dentro noi tramite elda o cosa sia e basta la cosa interessante qui è che anche in un'altra ditta abbastanza grande dove siamo stati dentro hanno acquisito un'altra ditta e per cercare gente che la pensa ugualmente hanno usato profiles perché così era più semplice trovare la gente nello stesso reparto diciamo l'altra cosa che abbiamo anche fatto vabbè ci sono le pubblicazioni recenti che è anche più facile e vabbè twitter chi vuole può integrare anche twitter lì dentro ma già solo le pubblicazioni recenti se tramite la ricerca vado a vedere chi è tagato con amministratore domino posso anche andare a vedere ah ma cos'è che ha scritto ultimamente sono quelle cose lì e l'ultimo era activities che praticamente sono le liste to do che si possono usare anche quelle centralmente invitare altre persone a collaborare però quella non è gratis giusto sono solo profiles e i files che sono gratis ok mi sa tempo vai ti chiedevo una conferma da voi è costituita è stato un problema il fatto che i files non gestiscano le sottocantelle non